Ci sarà un'importante riunione del Consiglio europeo venerdì che decide sul recovery fund, sul MES, sugli aiuti presunti o reali dell'Europa dopo l'emergenza Covid. C'è il Presidente del Consiglio Conte che come prevede il nostro ordinamento deve venire prima a riferire il Parlamento, ma ancora una volta si decide che il Parlamento non debba votare delle risoluzioni per dare a Conte un mandato chiaro. La maggioranza scappa dal voto, scappa dal voto per tenersi le mani libere, scappa dal voto forse per non dover decidere, per esempio sul tema del MES dove ci sono i 5 Stelle che ci garantiscono che l'Italia non accederà al MES e il PD che garantisce che l'Italia accederà al MES e probabilmente così finirà, ma non lo avremo deciso in Parlamento, lo avranno deciso loro nelle segrete stanze, magari facendo qualche gioco delle tre carte per non assumersi le responsabilità di quello che dicono. Ed è una vergogna che in Italia non decida il Parlamento, che in Italia non ci sia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, che in Italia alla fine decidano i burocrati europei e i loro burattini, perché purtroppo tempo che finirà così.